Ordine Ingegneri di Venezia e Federazione degli Ingegneri hanno organizzato per Industria 4.0 che adesso si chiama Impresa 4.0 un convegno qualche mese fa e adesso passo la parola a Valeria della federazione che dirà due parole sull'organizzazione di questo convegno anche di quello futuro Certo, siamo contenti di annunciare che a marzo, febbraio-marzo, assieme all'ingegner Geromino e Roberto faremo un ulteriore convegno sempre sull'Impresa 4.0 dopo il successo che abbiamo avuto a settembre Quindi a marzo faremo un convegno che avrà come titolo Impresa 4.0 8.3 che segue l'evento del 25 settembre 2019, atto secondo, dove ci saranno le novità della nuova legge di bilancio 2020 e ovviamente sarà molto improntato sull'azienda quindi vorremmo invitare tutte le aziende affinché possano capire quali sono i benefici di questa interessante agevolazione che è conosciuta anche come iperammortamento Quindi vi aspettiamo tutti a marzo 2020, seguiranno poi tutte le informazioni